Volete investire su un'azienda ma non riuscite a capire quanto è brava questa azienda a generare earnings e quindi a generare revenue partendo dal suo asset che ha a disposizione. Salve a tutti, Marco Casario qui e oggi voglio condividere con voi, stavo preparando una lezione per il corso sulla creazione di un portafoglio azionario di lungo termine. È un corso che utilizza l'analisi fondamentale per lo studio degli economics di un'azienda per capire e definire come scegliere le aziende in base al loro valore e in base alla loro crescita, utilizzando tanto per dircela in parole grossolane il metodo Warren Buffett e il metodo Peter Lynch. Ero arrivato ad una lezione secondo me molto importante perché parla del return on assets, il ritorno sugli asset. Questo parametro di un'azienda viene, se andrà a guardare sui libri o sui siti web, vi vengono date differenti formule matematiche per il suo calcolo. E alcune di queste sono tutte quante piuttosto semplici perché veramente la divisione è una divisione piuttosto secca e semplice, ma solo alcune di queste secondo me, secondo la mia concezione, il mio utilizzo e non solo la mia concezione, vi dicono veramente, vi fanno, vi scattano una fotografia per farvi capire in maniera quasi inequivocabile come l'azienda sta gestendo i suoi asset per generare delle revenue. E vi porto qui un esempio, ma poi vi lascio alla lezione che oggi regalo qui sul mio canale YouTube perché sono sicuro che può essere utile a chi fa analisi fondamentale sull'azionario. Immagina di avere, non so, tre aziende, Apple, Microsoft e Tesla. Apple ha un ritorno sull'asset del 5%, Tesla ha un ritorno sull'asset del 3% e Microsoft ha un ritorno sull'asset del 10%. Secondo voi, questo 7%, 5%, 10% che cosa vi dice in soldoni? Vi dice, nel momento in cui una di queste aziende spende un dollaro come asset per generare revenue, quanti centesimi produce di revenue? Nel caso del 10% 0,10 cent sarà quello che produrrà, nel caso dell'8% produrrà 8 centesimi l'azienda. Quindi è questo in maniera veramente spannometrica quello che vi dice il ritorno dell'investimento. E oggi vi voglio dire la formula matematica che utilizzo io per il calcolo del ritorno sull'asset, che probabilmente è diversa dalla maggior parte delle formule che avete visto in giro per la rete. Fatemi sapere come al solito che cosa ne pensate voi, se siete d'accordo, vi spiego ovviamente quali sono le motivazioni dietro a questa mia scelta, quindi non vi preoccupate, lasciatemi un commento, un like se questo video vi è piaciuto ragazzi, noi ci vediamo prestissimo, buon trading a tutti, ciao! Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a questa nuova lezione e continuiamo il nostro percorso sull'analisi fondamentale e andiamo a vedere un po' i parametri che ci permettono di confrontare le aziende per capire quale azienda sta a più valore rispetto ad un'altra e quali sono le aziende che hanno più prospettive di crescita. Oggi parleremo del ROA, che cosa vuol dire? vuol dire è un return, avete sentito sicuramente parlare e lo sentirete parlare in questo corso del ROI, il ritorno di investimento, return of investment, il ROA è il return on assets. Ormai a questo punto del corso sapete perfettamente quali sono e come si calcola, dove si vanno a leggere gli asset di un'azienda. Oggi vi voglio dire come viene usato il ROA come strumento per comparativo tra due aziende, azienda A e azienda B, quindi vi dirò diciamo a parità di bontà di un'azienda quale è preferibile scegliere rispetto al suo ROA, quindi quali sono numeri di ROA buoni, che cosa esprimono ovviamente, e vi dirò anche come si calcola il return on assets, perché io uso una formula, che ovviamente è una delle formule per il calcolo di questo valore, e vi spiego anche perché preferisco usare questa formula rispetto alle altre, rispetto a quello che magari molti libri e molti analisti utilizzano. Allora, che cos'è il return on assets? Praticamente questo parametro ragazzi ci dice quanto è brava un'azienda ad ottenere un ritorno in termini economici rispetto all'assets, e ormai, ripeto lo so che lo sapete, ma giusto per dare una rispolverata, sapete che un'azienda è composta da asset, Gli asset che cosa sono? Vi ricordate? Gli asset, li abbiamo visti proprio nelle precedenti lezioni, è quello che serve all'azienda per generare che cosa? Revenue. Ok? Qui dentro c'è quello che serve economicamente parlando all'azienda per generare revenue. E qui ci sono che cosa? Qui ci sono le liabilities, cioè ci sono i debiti, e qua ci sono varie cose, tra cui per esempio gli interessi, sui debiti che sono stati richiesti in banca, o che quindi si devono pagare, e altre cose. Ma la differenza tra asset e liability che cosa ci dà? Che magari è questo pezzettino qui, questa potrebbe essere la nostra equity dell'azienda, ok? Giusto per ripassare un pochino. Quindi il ritorno sull'asset ci dice quanto sta facendo bene un'azienda, in base a quello che spende, ovviamente. Quali sono le formule che trovate online per il calcolo del ritorno di investimento? Ragazzi, come al solito io vi faccio vedere tutte le formule, ma poi non è che le dovete sempre applicare, perché vi faccio vedere anche dei siti dove andarci a prendere questi numeri, no? Una delle regole, scusate, delle formule che trovate per il calcolo del ROA è questa, è il net income, ok? Che ormai sapete che cos'è, non mi dilungo troppo nel andarlo a spiegare, diviso gli assets, ok? Questa è la formula che trovate scritta un po' ovunque. Un'altra formula potrebbe essere, quindi metto oppure, è net income, net income, più, quindi siamo sul numeratore, più che cosa? Più gli interessi, gli interests, meno i tax, il tax savings, quindi quanto si riesce a risparmiare di tasse dagli interessi, from interests. Quindi il net income, più questa differenza, diviso sempre gli asset, ovviamente. E queste sono due formule molto molto comuni, ve ne dico un'altra molto molto comune, operating profit, e quindi anche qua il profitto operativo, che ormai sapete anche questo cos'è, dove si va a leggere, diviso gli assets. Ragazzi, perché, adesso vi lascio per ultima invece la formula che uso io, perché, per esempio, questa formula qui è una formula che a me, nonostante sia corretta, a me non piace troppo. Lo sapete perché? Perché, visto che sapete che cos'è il net income, questo ROA esprime anche la bravura di un'azienda a pagare meno tasse rispetto ad un'altra azienda. Il che non mi dice se quell'azienda è valida, perché magari quell'azienda è solo più brava a pagare meno tasse, perché ha messo la sede amministrativa in l'isola sperduta alle Cayman, oppure, peggio ancora, evade parte delle tasse, e quindi paga meno tasse di un'altra azienda e ci avrà un ROI migliore, proprio perché sto utilizzando al numeratore il net income. Ok? Questo è il motivo per cui queste formule non mi piacciono, le formule che usano il net income, perché non mi dicono la verità sull'azienda. Qual è la formula che invece mi piace utilizzare a me per il ROA? Adesso ve lo faccio vedere, fatemi un secondo velocemente cancellare, che non vuol dire, ragazzi, che dovete usare per forza la mia formula, però almeno vi spiego da dove viene fuori questa mia scelta. La formula che uso io è EBIT diviso asset. Cos'è l'EBIT? In Italia avrete sentito parlare dell'EBIT, ma forse più spesso dell'EBIT A, se avete a che fare con il linguaggio aziendale. Allora, l'EBIT, che è il numeratore di questa azienda, è, EBIT è una sigla, è un acronimo, sta per Earnings Before Interest and Taxes. Quindi sono i guadagni di un'azienda prima di interessi e tasse. E quindi capite bene che questo parametro, rispetto al net income, già, cioè, non ha al suo interno i valori degli interessi e il valore delle tasse, che a volte possono drogare il risultato del ROA. Vi possono far pensare che il Return on Assets di un'azienda è molto buono, ma solo perché al numeratore c'aveva il net income, che sconta questi due valori qua. Ok? E questa quindi è la formula che io preferisco. Perciò, facciamo un esempio, immaginiamo azienda A e immaginiamo l'azienda B. Immaginiamo che l'azienda A abbia un ROA del 8% e l'azienda B abbia un ROA del 10%. A bruciapelo, secondo voi, a parità di bontà dell'azienda, sono due aziende che sono interessanti perché ne avete già studiato i fondamentali, eccetera, su quale delle due vi, diciamo, puntereste di più? Ok? E valutereste di inserire nel vostro portafoglio, che piano piano stiamo andando ormai a costruire? Vi lascio qualche secondo, ma so che non mi potete rispondere. E' quella con il Return on Assets più grande. Perché quella con il Return on Assets più grande? Perché in pratica, che cosa ci dice il ritorno sull'asset? Ve l'ho detto prima, no? Quanto è brava un'azienda ad ottenere revenue partendo dall'asset? Quindi qua, questo 10%, ve lo dico in, veramente, in modalità molto molto semplificata e semplicistica, ok? Passatemi l'italiano. è che con una spesa asset qui, eh, di un dollaro, quindi l'azienda spende un dollaro per cercare di generare quanto? 10 centesimi di revenue. Mentre l'azienda A spende per un dollaro speso per generare revenue, le revenue che genera sono di 8 centesimi, di 8 centes. Questa è la differenza ed è questo il motivo per cui dovreste preferire aziende che hanno un ROA più grande. Dove si va a vedere il ROA, ragazzi? Perché ogni volta non è che me lo voglio calcolare. Dov'è che posso andarlo a vedere? Vi faccio vedere come al solito a fine di ogni lezione ormai è consuetudine che vi mostri un tool da utilizzare, quindi ne abbiamo già visti parecchi. Oggi ve ne faccio vedere uno nuovo. Sto su macrotrends.net. Vedete che qua slash stocks slash chart slash il nome dell'azienda, in questo caso Apple, qui ci sono tante informazioni financial, revenue and profit, assets and liabilities, quindi potete vedere tante cose. Se andare su Other ratios, trovate ROA, vedete che trovate anche il Return on Investment e il ROE, di cui parleremo dopo, che è il Return on Equity, e il ROA di Apple al 30 giugno 2019 di 15,87. La cosa interessante di questo sito è che potete andare a vedere negli ultimi, vedete lo storico, dal 2006 ad oggi, come il ROA si è mosso. E vedete, una cosa interessante, vedete che nel 2012 c'è stata una flessione, pensate qua, aveva un ROA del 30% Apple, pensate quanto era brava a generare profitti, revenue, partendo dall'asset. Si è poi abbassato nel 2014, si è rialzato un po', si è abbassato molto nel 2017, attualmente, abbiamo detto, sta a 15,87. E questi, che cosa sono? Questi sono gli income e questo grafico qui sotto sono i total assets. Ok? Questa formula, questo valore qua, però, badate bene, è calcolato da net income diviso, quindi, TTM net income, che sapete cos'è, diviso total assets. Non usa la mia formula dell'habit. Ok? Quello, preferisco andarmelo a calcolare a mano, però, intanto, potete vedere velocemente qui un valore. Se qui vogliamo, non so, AMZN, andiamoci a vedere, comparare, Amazon, Apple, con un'altra stock, in questo caso, appunto, Amazon, solo per farvi vedere che esiste questa funzionalità, e vedete che, eccolo qui, AMZN, aspettate che lo rimetto, in modo tale che mi mette sul grafico, vedete, il blu è Apple, e il tratteggiato giallo è Amazon. Vedete che Amazon ha un ROA inferiore rispetto a Apple, del 7%. Quindi, capito, interessante questa cosa, no? Ragazzi, come al solito, esercitatevi, noi ci vediamo al prossimo appuntamento, alla prossima lezione, grazie mille per l'attenzione, buon trading a tutti, e buono studio. Ciao! Ciao!